Ciao raga, bentornati sul mio canale youtube, oggi a gran richiesta è arrivato il video sulle tattiche e le istruzioni del 4231 dopo la patch quindi ce lo andiamo a gustare tutti quanti insieme, sperando che duri il più possibile e che EA non decida di regalarci un'altra patch a breve cosa che comunque non credo avverrà, quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere passiamo subito sulla schermata in game dove potete vedere la mia squadra che ha subito una modifica last minute, difatti ho comprato sto cancello, non l'ho ancora provato in questi giorni arriveranno sicuramente feedback, mi sembra veramente molto pulito, anche come ho detto all'interno del video di analisi di questi road to the final anche in ottimo upgrade eccetera eccetera, con i piedi mi sembra molto meglio di semedo l'unica cosa che mi spaventa un po' è questo alto normale, ma vediamo un attimino come va il buon jouacans o se proprio non mi piace vado a rimettere semedo anyway, andiamo direi subito sulle tattiche il 4231, eccolo qua come potete vedere, per quanto riguarda lo stile di difesa al solito io vado a impostare equilibrato perché non gradisco il fatto che la CPU vada a eseguire cose troppo sofisticate per me motivo per il quale non metto pressing sul primo controllo che mi farebbe stancare i giocatori e magari me li porta troppo fuori posizione non metto pressing una volta persa palla, che è una sorta di pressing costante che dura 7 secondi che pure non fa altro secondo me che stancare i nostri giocatori non metto pressing costante perché è l'equivalente del pressing col tasterino che quindi posso attivare e disattivare quando mi pare e non metto neanche ripiega per evitare che la mia squadra sia troppo schiacciata quando recupero palla e voglio ripartire quindi per questo motivo utilizzo equilibrato per quanto riguarda l'ampiezza utilizzo 6 in questo caso per tenere la squadra anche in fase difensiva abbastanza larga appunto permettendo ai miei terzini e miei esterni di essere sempre accoppiati ai terzini e agli esterni avversari e dunque cercare di evitare filtranti sulla fascia mentre per quanto riguarda la difesa dei filtranti in zona centrale utilizzo il filtro con i centrocampisti profondità addirittura 8 non perché sono totalmente impazzito ma semplicemente per il discorso che vi ho spiegato anche con il 4-4-2 ossia che da 7 in poi la difesa fa dei movimenti in automatico alzandosi sempre col tempismo perfetto e questo dà una grossa mano soprattutto quando beccate giocatori che giocano tanto di possesso palla quindi ho preferito addirittura passare ad 8 qui in questo caso perché ho notato che questo meccanismo si attiva con maggiore frequenza per cui mi è sembrata una buona idea per quanto riguarda lo stile d'attacco anche qui equilibrato per la stessa ragione della difesa perché palla lunga mi farebbe scappare troppo in automatico i giocatori creando magari più spaccature tra i vari reparti ma non era veloce stesso motivo di palla lunga possesso palla invece al contrario non mi consentirebbe di avere abbastanza opzioni rendendo la squadra troppo statica e per questo motivo vado a utilizzare equilibrato che mi permette di poter fare quello che mi pare con L1 faccio scattare i giocatori con R1 li chiamo e li faccio avvicinare quindi senza alcun tipo di problema per quanto riguarda l'ampiezza utilizzo 6 affinché i miei COC laterali siano abbastanza larghi in maniera tale da andare ad aprire la scatola difensiva avversaria a trovare poi le imbucate centrali che tanto ci piacciono giocatori in area 5 perché voglio che i miei COC vadano a dare supporto alla manovra offensiva alla punta che altrimenti si ritroverebbe isolata e dunque facile preda dei DC avversari per quanto riguarda angoli e punizioni utilizzo 2 ma potrebbe essere 1 così come potrebbe essere 3 semplicemente un parametro intermedio per evitare di prendere fastidiosi contropiedi che sono all'ordine del giorno su sto gioco e comunque negli ultimi FIFA e dunque per evitare che le mie azioni offensive si trasformino in azioni difensive e pericolose per l'avversario per quanto riguarda poi le istruzioni invece anche qui delle novità perché per quanto riguarda i terzini utilizzo restadito in attacco sì ma con sovrapponiti questo non significa che il giocatore parteciperà all'attacco semplicemente significa che quando voi lo fate scattare il terzino vi fa proprio il movimento a sovrapporsi quindi non taglierà mai verso l'interno ma sempre verso l'esterno che è una cosa secondo me molto molto utile per quanto riguarda i due mediani utilizzo restadito in attacco e copertura al centro ad entambi anche se alle volte sul buon Renato Sanchez che è quello con i piedi migliori vado anche a piazzare l'attacco equilibrato per avere insomma un po' più di alternative per quanto riguarda poi i due COC laterali invece utilizzo entro in area per il cross e svaria come potete vedere per quanto riguarda il COC centrale invece utilizzo rimane avanti e svaria anche in questo caso ho cambiato perché prima a questo gli mettevo di rimanere in posizione perché lo volevo come riferimento centrale ma in realtà con svaria non è che va proprio a pascolare anzi magari si sposta in zona un po' più laterale eccetera eccetera e questo permette poi di poter triangolare bene tra i vari COC e la punta punta alla quale lascio inserisciti alle spalle che magari ogni tanto potrebbe anche ricevere un rientro in difesa così come i due COC laterali soprattutto quando magari volete andare a difendere il risultato o giocate contro un avversario un po' piuttosto che vi costringe a fare tour de force sotto questo punto di vista quindi come avete visto diciamo tattiche abbastanza esotiche con questo 8 e questo 6 di ampiezza soprattutto in difesa istruzioni che sono bene o male le standard salvo queste istruzioni di sovrapponiti ai terzini e uno dei due mediani che ogni tanto vado a lasciare libero e nulla raga per questo video è tutto fatemi sapere al solito che ne pensate fatemi sapere se utilizzate questo modulo vi ricordo anche di lasciare un like oltre ad un commento di iscrivervi al canale che stiamo andando una bomba e mi fa strapiacere tutte le info in descrizione per le live quotidiane sulla piattaforma viola e nulla raga per oggi è tutto io vi saluto vi auguro una buona giornata ciao